Entoni Turnone, il 28enne di Crispiano, è morto a causa di una scarica elettrica da 20.000 volt, partita dai fili ad alta tensione ortati con il braccio meccanico che lo stesso 28enne stava manovrando per scaricare dei container. La conferma è arrivata dal medico legale Alberto Tortorella che ha eseguito l'autopsia. La tragedia sul lavoro si è consumata lunedì mattina nelle campagne di San Donato. Al termine dell'esame autoptico, il PM Alberto Pronter ha restituito la salma del giovane alla famiglia per il rito funebre ufficiato nella chiesa di Santa Maria della Neve. L'inchiesta, probabilmente all'esito degli accertamenti medico-legali, verterà sull'individuazione di eventuali responsabili con l'accusa di omicidio colposo per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro come atto dovuto, risultano iscritte nel registro degli indagati sette persone.